Io non so se i catalani, o meglio, torno indietro, gli inglesi sappiano con l'uscita, con la famosa Brexit, quindi l'uscita dall'Europa, a compimento di questo itinerario sappiano che, per esempio, per quanto riguarda i gruppi di azione locale, cioè i cofinanziamenti di questo progetto, che è essenzialmente europeo, del quale abbiamo parlato altre volte e lo riprenderemo, se sappiano che nel futuro non c'è più il GAL della Cornovaglia, ad esempio, o non vi sarà il GAL qualora si andasse agli estremi per quanto riguarda la Catalogna o magari i monti della provincia di Girona, che è parte della Catalogna, non avranno più il GAL. Allora, il GAL è lo strumento, lo semplifico, quindi europeo che dà voce, capacità di interpretazione ai territori. E arriva il nostro GAL della terra di Romagna, che è l'altra Romagna. Mi permetto di fare questo riferimento perché poi passeremo agli argomenti propri dell'iniziativa di questa misura, con il dottor Bruno Biserni, che è presidente del GAL, l'altra Romagna, e con il direttore, il dottor Mauro Pazzaglia, che ci aiuterà a capire, dare gambe a quello che mi sono permesso di richiamare per i catalani o per gli inglesi o gli abitati di Cornovaglia, Bruno Biserni. E così, e così, e così. I GAL sono un'espressione dell'Unione Europea, è uno strumento che l'Unione Europea ha voluto dare ai territori, a tutti i territori europei, per rispondere meglio alle esigenze dei territori un po' più deboli, un po' più fragili, diciamo di quelle periferie, delle zone culinarie montane. E ha proprio inventato uno strumento che si chiama il bottom-up, proprio per ascoltare le esigenze del territorio, quindi raccogliere le esigenze del territorio e tradurle poi in progetti e programmi. In tutta Europa i GAL ci sono, alcuni sono più recenti di vita nei paesi dell'Est Europa, per esempio. Il nostro ha 25 anni di vita, è uno, diciamo, dei più anziani, almeno dell'Emilia Romagna, senz'altro, forse anche d'Italia, e nel tempo ha distribuito molte risorse nel territorio, ma partendo prima di tutto dalle esigenze che si sentono nel territorio. E' molto interessante, dottor Pazzaglia, questo tema, cioè di questa che un'autority, cioè qualcuno che a livello europeo di questa macro area che è l'Europa, e noi dovremmo essere tutte regioni dell'Europa, dovremmo, ahimè purtroppo c'è il rischio, ma paradossalmente, dottor Bisani, mi scusi Pazzaglia, ma paradossalmente i catalani non si accorgono che stanno, secondo me, irrobustendo l'Europa, non dividendo, irrobustendo, perché alla fine poi non sarà possibile immaginare, ma probabilmente la Catalogna, l'Emilia Romagna, i vari lender, un bel giorno dovremmo aderire tutto il progetto europeo, come regioni. Beh, potrebbe essere anche questa una strada, adesso non saprei, cioè l'importante è che l'Unione Europea resti, l'Europa resti l'obiettivo dei territori, questa è la cosa fondamentale, poi che si passi da strumenti di stati unitari o di somma di territori, questo, come posso dire, sarà la storia che definirà meglio i passaggi. Chiaro è che smontare gli stati nazionali diventa un'opera che può essere pericolosa proprio per gli equilibri dell'Europa, ma proprio posso dire per gli equilibri del quieto vivere della civiltà europea, che negli ultimi anni dall'Unione Europea in poi non ha visto, non ha subito guerra e quindi non è un passaggio di poco conto. Chiudiamo questo capitolo, ma certamente se qualcuno si svegliasse di là, dall'oltre tomba, vedrebbe e diceva, ma questi rischiano di andare all'epoca del Medioeo, all'epoca dei Comuni, il carroccio. Assolutamente sì, dal 1870 ai giorni nostri ci sono alcuni territori, compresi fra Germania e Francia, che hanno cambiato tre volte il padrone, dipende chi vinceva la guerra, ecco questa è una roba che non deve più succedere. Dottor Passaglia, noi ci siamo permessi di chiamare questo confronto molto interessante, che prego di valutare in effetti, perché interessa ciascuno di voi indirettamente, un bando tira l'alto, intanto che cos'è un bando? Un bando diciamo che è una sorta di pubblica manifestazione di interesse verso una tematica, verso un'attività, un'iniziativa che nel caso specifico un ente pubblico, comunque un ente che agisce in nome per conto di un ente pubblico, informa e comunica alla propria cittadinanza, a un proprio territorio, attraverso il quale è possibile accedere a delle linee di finanziamento o ad accedere a quelle che possono essere delle agevolazioni, per cui i cittadini o comunque coloro che possono essere e hanno i requisiti per essere dei soggetti beneficiari, si candidano e si accreditano per poter poi beneficiare eventualmente di risorse che la collettività ha predestinato per stimolare, incentivare e favorire lo sviluppo di un determinato filone, di un determinato settore. Stiamo parlando di questo bando che riguarda? In modo particolare la ristrutturazione e l'ampliamento degli agriturismi, nonché anche la ristrutturazione e la realizzazione di fattorie didattiche. Dottor Biserni, stanno correndo questi ultimi dati sul turismo in Europa, sembra che l'Italia stia recuperando, questo è un anno probabilmente alla fine della quale ci sarà un 6-7% mediamente di aumento per quanto riguarda Rimini e Riviera, ma questo è un caso 6-25% di aumento, ma in tutti i settori, quindi balneare, termale, appennino, che riveste quindi importanza anche per voi, attenzione, quindi io mi ricordo, e chiedo scusa, solo questo faccio un riferimento per il direttore, soprattutto che so essere amante, ho fatto per la verità gli ultimi 150 km del Cammino di Santiago e lì ho visto come, e anche lì c'è un bel galla, attenzione, come si coniughi il turismo, lì i pellegrini, noi eravamo pellegrini, con l'agricoltura, quindi il turismo, prego. Ma guardi, solo una battuta su Santiago de Compostela perché ci sarà una delegazione dei GAL della regione Emilia-Romagna che si recheranno a Santiago de Compostela i propri prossimi giorni e sarà guidata proprio dal direttore Pazzaglia, quindi per quale motivo andiamo lì, andiamo lì a imparare, molto semplicemente, perché quella è una delle esperienze, forse l'esperienza più importante, non in Europa, ma nel mondo, di un percorso di pellegrini, ma, sa direttore, ci sono i pellegrini e poi ci sono anche quelli che molto semplicemente, senza aver la spinta, diciamo, della fede, vanno a fare quel percorso lì, perché è storico, è culturale, è ambientale, si scoprono tante belle cose, quindi da questo versante il turismo oggi sta diventando di tutti i tipi, di tutte le misure, insomma, ci sono quelli che fanno il turismo a Grest perché gli piace la campagna, ci sono quelli che trovano interessante un turismo culturale, c'è chi vuole andare a cavallo, chi vuole andare a mountain bike, cioè ognuno ha la sua, come posso dire, la sua passione di turismo e nella parte colinare montana, i dati degli arrivi e delle presenze sono in netto aumento negli ultimi tempi, ma il turismo oggi sta diventando, è, secondo me, già una industria importantissima, ho detto industria e non l'ho detto casualmente. Noi dobbiamo fare in modo che questa risorsa che oggi è più concentrata nella nostra regione Emilia-Romagna, sulla parte costiera, non sia solo concentrata in quel territorio, ma diventi una risorsa importante di sviluppo delle parti meno flore di oggi, che sono quelle con le narie montane e forse domani potrebbero diventare delle risorse per tutto il territorio. Non dimentichiamoci che di là dal Crinale c'è la Toscana che di questo ne ha fatto una risorsa già da anni e noi non abbiamo nulla da invidiare. Presidente, io mi permetto di dire come è vero, probabilmente presi singolarmente, vi sono talune regioni italiane che presentano in alcuni campi del turismo certamente delle eccellenze più delle Emilia-Romagna, lei ha citato la Toscana, se prendiamo la Toscana sotto il profilo dell'arte, probabilmente non, però la differenza, ecco questo è il punto, tra alcune regioni, questa regione, l'azione del GAL, perché arrivo, per me il chiodo è quello, è come riuscire a mettere in rete, come far scoppiare le idee, come creare l'attrattività e credo che questa sia una caratteristica dei romagnoli, ma forse non so se gli emiliani siano d'accordo, però io non sono nemmeno d'accordo con Papa Francesco quando in piazza ha detto il modello emiliano, è un modello emiliano romagnolo, santità, prego, è così. Forse il Papa che viene dall'altra parte del mondo non conosce la distinzione fra Emilia-Romagna. Certamente, non c'è quel trattino. Certo, sì, penso che sia proprio questo il succo, ecco, il succo è che noi, Emiliano-Romagnoli, nel caso specifico noi romagnoli, perché la nostra riviera, che è un po' uno dei circuiti numero uno al mondo per quanto riguarda l'attrazione turistica legata agli aspetti del mare, abbiamo quel quid, come lo chiama qualcuno in gergo, che spesso sta proprio nella natura delle persone. Io penso che le persone, il romagnolo in particolare, abbia l'opportunità con il suo forte senso di ospitalità, la sua grande solarità, la nostra grande capacità di andare incontro alle esigenze delle persone che vengono a vivere nel nostro territorio e di poter offrire questa opportunità. Anche nella nostra parte del territorio, dove forse l'arte non è di primo ordine, dove forse in qualche modo la cultura non è uno dei primi aspetti, però abbiamo sicuramente tanto da offrire per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, per quanto riguarda gli aspetti enogastronomici, i circuiti che sono legati agli escursionismi e non solo. Penso che da questo punto di vista il territorio romagnolo, che rappresento in modo particolare l'altra Romagna, che è quindi quella parte più povera della Romagna, quella meno conosciuta, quella di cui a volte si dice anche che vi sono in corso dei processi anche di allontanamento da parte delle popolazioni, quindi nel corso dei decenni, dal dopoguerra in poi, abbiamo riconosciuto che c'è stato un abbandono delle campagne, della ruralità. Così detto, spopolamento di alcune aree dell'Appennino soprattutto, aree marginali. Esattamente, adesso non volevo utilizzare un termine così forte, però il significato è proprio questo. In termini televisivi, per capirci bene, direttore. Caro Presidente, però, non è che il GAL, né che scoppiamo il GAL oggi, né sappiamo che il GAL ha operato nel settore del turismo, soprattutto nell'agriturismo, ma da oggi, Presidente. Assolutamente no, come posso dire, noi veniamo da lontano, come diceva qualcuno. Sì, già nella scorsa programmazione, quindi vuol dire nel settembre passato, il GAL si è concentrato particolarmente sul tema del turismo, in modo particolare sul tema degli agriturismo. Nella scorsa programmazione noi abbiamo… Anzi, Presidente, mi dia l'opportunità, chiedo scusa, voi non è necessario che siate dei linguisti, si dice agriturismo, come ha detto correttamente il Presidente, non esistono gli agriturismi, esistono gli agri, che è plurale, turismo, turismo. Prego, chiedo scusa Presidente. Temevo dello sbagliato. No, 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 mi ho approfittato proprio per questo. Agriturismo. Sì, dicevo, nella scorsa programmazione noi ne abbiamo finanziati ben 48, per capirci nel territorio GAL della provincia di Forlì-Cesena, ce ne sono 118 oggi, quindi 48 hanno avuto provvidenze da noi e abbiamo concentrato il 39% delle risorse della scorsa programmazione su questo tema, cioè una cosa come quasi 4 milioni di euro su 10 milioni di euro. Quindi l'attenzione è stata molto forte. Per quale motivo? Noi abbiamo voluto nella scorsa programmazione creare la struttura, l'infrastruttura, cioè fare in modo che il turismo possa trovare nel territorio collinare montano della provincia di Forlì-Cesena, di quella di Ravenna e allora anche nella parte riminese, possa trovare già una struttura presente, quindi ristoranti e alberghi che possono accogliere il turismo. Quindi l'altra volta abbiamo creato la base, 48 aziende le abbiamo finanziate che sono presenti in tutti quanti i comuni. In questa programmazione abbiamo concentrato minori risorse perché l'esigenza non era creare l'infrastruttura, ma migliorare l'infrastruttura. Quindi, nello specifico, per grosse linee, a che cosa si adesso, bando tira bando, a chi si rivolge il bando? Il bando di questa programmazione, la cui scadenza ad oggi è fissata per il prossimo 3 novembre, si rivolge in modo particolare agli imprenditori agricoli, così come sono definite dal Codice Civile all'articolo 2.135. Così poi, come in un qualche modo, i requisiti che i beneficiari devono avere, devono essere comunque aziende che devono essere iscritte all'anagrafe aziendale, questo vale un po' per tutti i nostri bandi perché sono destinati al mondo agricolo, imprese iscritte alla Camera di Commercio e un prerequisito importante che non è da sottovalutare è assolutamente la preiscrizione da parte di questi imprenditori all'albo regionale degli agriturismi. Quindi, un'azienda per poter accedere a questi contributi, a questi finanziamenti, devono essere esercitare già l'attività agrituristica, così come è definita dall'apposita legge regionale. Sì, anche perché la legge è importante perché poi, come al solito, poi qualcuno ne approfitta, invece ci sono dei criteri, vogliamo dire, Presidente, dei criteri chiari, trasparenti per poter adire alle risorse. È tutto chiaro, ben definito, noi applichiamo come ovviamente dobbiamo fare, siamo una società misto pubblico privato, però che gestisce dei fondi pubblici e quindi il nostro comportamento è sempre legato alla trasparenza, al rispetto delle norme, delle regole, assolutamente, per cui noi ci comportiamo da quel punto di vista come fossimo un ente pubblico. Io vi ringrazio per questo perché non si finisce mai di saperne, perché la questione dell'università all'ultima è stata un brutto, un cattivo esempio di quella che è la trasparenza pubblica. Allora, abbiamo parlato di tempi, di obiettivi e di requisiti che devono avere queste aziende che richiedono. Certo. E che tipo di ammontare, che tipo di intervento? Ma il GAL, così come ha definito nella sua strategia, per questa misura ha predestinato grosso modo un milione di euro, questa è la cifra complessiva che viene messa a disposizione delle aziende che ne faranno poi richiesta e il contributo che viene concesso agli imprenditori è di una percentuale che varia dal 50% qualora l'agriturismo risieda in zona, quelle che vengono definite le famose zone D, quindi zone con problema di sviluppo, che sono poi i comuni del nostro Alto Appennino e del 40% qualora invece in un qualche modo siano agriturismi che operino e lavorino nel territorio dei comuni in zona B, cioè zone smantaggiate comunemente definite. Per cui in un qualche modo questa è la cifra, la montare di massima. È chiaro che per poter accedere bisogna fare un minimo di piano di investimento che è stato identificato in 20 mila euro, quindi imprese che non raggiungono e non soddisfano questa esigenza minima di investimento non vengono prese in considerazione, comunque non vengono ritenute valide le loro richieste e per quanto riguarda i massimali, vi è un massimale di 200 mila euro che è a prescindere dall'investimento complessivo che l'imprenditore vuole dare, questo perché è normato da quella che è la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Direttore, io sono curioso, anche per mia curiosità, non ho l'azienda griglia quindi non potrò fare domanda, però mi serve per capire, ma se arrivano tante domande che superano il quid che mettete a disposizione, qual è il criterio delle priorità? Nel bando sono sanciti una serie di criteri di priorità che quindi definiscono quelli che possono essere dei singoli punteggi, i parametri sono perlomeno una quindicina che definiscono questi criteri di priorità, ve ne sono alcuni che dipendono da prerequisiti che ha l'imprenditore in quanto tale e ve ne sono altri invece che sono legati alla tipologia di investimento che l'imprenditore è disposto a fare. Nel caso specifico dell'investimento, solamente per citare alcuni degli aspetti più importanti, è possibile fare delle ristrutturazioni e dei recuperi di quelli che possono nasce dei fabbricati rurali destinati poi ad agriturismo, è possibile acquistare l'attrezzatura destinata all'attività agrituristica? Esatto, vorrei soffermarmi su questo tema, perché in questi nostri comuni, tanto giusto la, io osservavo proprio le slide tra la D e la V, quindi come aree, quelli di alta, chiamiamolo da no, alta montagna per comodità e quelli invece di media collina per india, c'è una differenza, però qualsiasi richiesta da parte di un'azienda che voglia fare o una ristrutturazione è possibile? Che se io rifare le camere, rifare i bagni, qualsiasi azione? No, nel senso che il bando comunque definissi in maniera dettagliata quelli che sono la tipologia di investimenti, uno non può svegliarsi e dare fuoco alla sua fantasia. Sì, ecco, facciamo la sauna. Ecco, la tipologia di investimenti sono dettagliatamente scritti nel bando e quindi chi è poi interessato se lo legge nel dettaglio, io cito semplicemente le cose più eclatanti, più significative. Bene, il giudizio, perché adesso noi gli aspetti tecnici poi li possiamo rilevare anche attraverso, andando nel sito del Gallo all'altra Romagna, casomai dopo lo diciamo alla fine, direttore, chi voglia, però mi interessa fare emergere la presenza, l'importanza del Gallo dopo aver costruito la base, come diceva il Presidente. Adesso l'ulteriore passaggio, quindi certamente funge anche da selezione questo passaggio, cioè una selezione, chi ha le carte in regola può fare l'altro passo, qualcuno ha bisogno che si fermi. Il mercato ovviamente è quello che fa sempre la differenza, quindi è il cliente che decide quali sono le strutture migliori e peggiori. Noi abbiamo detto l'altra volta, abbiamo formato la base, il riferimento, quindi la struttura. Oggi diamo la possibilità di migliorare queste strutture, per esempio si possono fare interventi per piazzole di... Io volevo arrivare anche a questo, prego. Piazzole per, lei che è un appassionato, però piazzole per la sosta dei camper, possono essere finanziate, si possono migliorare la qualità, la tipologia delle camere, si può aggiungere, banalmente l'area condizionata, se in quel momento forse non è stata fatta, si possono creare dei laboratori per la preparazione dei prodotti del territorio, non la loro commercializzazione, ma come posso dire, come aule didattiche per insegnare a farle marmellate o banalmente solo la piadina. Ma si possono fare anche attività, creazioni di attività ricreative. La piscina, se uno li vanno a mettere, forse, boh, io non saprei se una sauna, un idromassaggio possono andarci, adesso questo lo diranno meglio i tecnici, ma secondo me non è da escludere a priori anche questo, cioè noi vogliamo fare un passaggio di qualità di quella che prima era una struttura solo recettiva, come posso dire, molto spartana, perdono il termine. Oggi il turista, anche l'agriturista, necessita di qualità maggiore, vogliamo fare quel passaggio che le nostre strutture abbiano una qualità maggiore perché il turista oggi pretende, chiede giustamente, sempre un po' di più. Noi dobbiamo dare un po' di più. Io mi permetto di aggiungere, ma questo esula sicuramente dalle competenze del GAL e soprattutto da questo bando, che abbiamo citato all'inizio il direttore andrà a Santiago per verificare ciò che sta avvenendo. È interessante, secondo me però, nella visione che voi state percorrendo, per esempio, so che state lavorando per le aree, l'ha detto lei, per i camper, eccetera, riuscire a collegare questi agriturismo con gli aspetti viari, cioè i sentieri, cioè la sentieristica, cioè gli itinerari. Io so che il ministro Franceschini sta lavorando per mettere insieme, in rete si dice, tutte le vie d'Italia, gli itinerari vecchi dei Pellegrini, la via Germanica, la via Romea Germanica, la Francigena, qui le vie di San Romualdo, San Vicini, eccetera. Credo che sia ineliminabile questo fatto che voi dobbiate anche preoccuparvi. Vi do il segnale, prossime volte anche questo tema, di mettere insieme gli agriturismo o le fattorie didattiche con la rete viaria, la rete dei sentieri, ovviamente. Questo è già comunque nelle nostre intenzioni fin dall'inizio, quello di arrivare proprio a mettere in rete quelle che sono le attività recettive con quella che è la struttura viare, dove in questo caso non parliamo di autostrade o di ferrovie, ma parliamo di sentieristiche, parliamo di tutto quello che può essere una struttura messa a servizio del potenziale turista che viene a visitare, a conoscere, a vivere il nostro territorio, per cui abbiamo in animo una serie di azioni, anche quelle che vengono chiamate di cooperazione o comunque quelle che sono azioni da fare anche a livello coordinato con altri gali, in cui andremo proprio a promuovere quelle che sono le vie dei cammini, i percorsi che possono permettere comunque al turista di venire a conoscenza di quelle che sono le attività del territorio. Non solo, oggi con un altro progetto in cui vorremmo digitalizzare e favorire l'informazione in tutti i centri storici dei nostri borghi, vorremmo far sì che con dei totem messi nelle piazze pubbliche del nostro territorio vi possano poi dopo sopra accedere a una serie di informazioni per mettere in rete i servizi, mettere in rete gli agriturismi, far conoscere le mappe e le sentieristiche del nostro territorio, creare in un qualche modo una smart land, così l'abbiamo definito, un territorio comunque intelligente in cui muoversi, in cui conoscere, in cui andare a vivere, in cui andare sia a mangiare, ma andare anche a dormire, andarsi a riposare e andare a trovare quella recettività ricreativa di cui oggi spesso ne abbiamo il bisogno, perché le motivazioni di fondo del turista sono le più svariate, si tratta di saperle cogliere. È stata approvata recentemente, caro Presidente, la legge nazionale sui piccoli comuni, inferiori ai 5 mila abitanti e credo che anche questo sia interessante. Ho ascoltato i pareri di alcuni sindaci che dice, sì è positivo, magari le risorse, perché non bisogna, che noi non dimentichiamo, dobbiamo dimenticare che poi la vita valle nasce dalla vita monte, cioè si sviluppa dalla vita monte. Anche questo è un bel collegamento, così come abbiamo tralasciato di dire l'intervento sulle fattorie didattiche, la digitalizzazione, quindi sono tutti aspetti che so essere presenti nei vostri programmi. Turismo, turismo greste? Come ho detto, ce ne sono vari, ha citato prima il direttore giustamente il tema anche dei camper. Noi è un tema che abbiamo già, come posso dire, finanziato. usciremo con alcune iniziative, così, visto che lei è appassionato di camper, lo possiamo già dire. Ci saranno tre macro raduni, ancora le località sono da definire, ma saranno uno nel Forlivese, uno nel Cesenate, uno nel Faentino, tre maxi raduni di camperisti, assieme ad altre iniziative, una valorizzazione del territorio che passerà anche per riviste nazionali a larghissima tiratura, proprio per far conoscere a quelli che amano quel tipo di turismo, che è il turismo del camper, i nostri territori. Ci sarà da divertirsi. Bene, credo anch'io, io vi ringrazio per questa collaborazione, anzi siamo in grado, poi passerà il VVV sotto, come faranno a saperne di più, ma possiamo già anticipare che insieme a voi e tanti altri soggetti del territorio che operano, io immagino sempre che il GAL sia una sorta di crogiolo, intorno al quale girano tutta una serie di enti che operano in montagna, quindi vari enti, istituzioni, comuni, e per questo credo che abbiate lanciato questa iniziativa di un ping pong mettendo insieme. Credo che sia intorno al 27 di ottobre, faremo questa iniziativa, caro direttore. Ci saremo. Insieme parco, i varienti, la PT, la regione, le province, i comuni, la fondazione e quant'altro, perché assieme noi, come posso dire, noi siamo uno di tanti pezzettini che sono a disposizione del territorio per fare certe cose, e una di quelle certe cose importanti è proprio questa della valorizzazione turistica, assieme agli altri noi vogliamo fare il nostro pezzettino e inizieremo a chiamare attorno a un tavolo come questo, insomma, di fronte a una macchina da ripresa televisiva, inizieremo a ragionare anche con altri perché assieme possiamo fare tante cose. e andare lontano. Grazie, ciao a tutti.